Multata, nonostante le nuove norme, in vigore da luglio del 2016 obblighino le amministrazioni comunali a installare parcometri che permettano di pagare anche con il Bancomat. È successo a una cittadina di Bassano il 21 gennaio in Viale delle Fosse, 28,70 euro di contravvenzione. La sfortunata telespettatrice aveva esposto un biglietto con scritto «Non ho moneta, ma avrai il Bancomat». Niente da fare, gli intransigenti vigili, che quando c'è da far multe sono sempre in prima linea, gliel'hanno appioppata lo stesso. Ora chiede come si deve comportare. Le abbiamo fatto rispondere da Antonio Tognoni dell'Unione Consumatori. La legge di stabilità del 2016 ha previsto proprio che i comuni si debbano adeguare a questo problema. Il macchinario deve prevedere un pagamento diverso dal contante, quindi con le carte di debito o di credito. La nostra telespettatrice può dunque fare un tentativo. Io magari consiglierei alla signora di andare e alla polizia locale a vedere se gli annullano la multa in autotutela. Il ricorso è una strada ardua e tra le altre cose costa molto di più della multa stessa. Che sia una strategia per far cassa noi non possiamo dirlo, ma il dubbio resta. Questo è il problema che si affronta sempre quando si hanno a che fare con questo tipo di problemi. Alle volte la richiesta di avere un diritto da parte dell'utente, di far valere un diritto da parte dell'utente può costare molto di più di quello che è il valore effettivo della lite. È un problema a monte questo qui che va avanti da diverso tempo.